Buonasera a tutti. Volevo fare un appello questa sera. Anche se ci sono grandi problematiche, grandi emergenze che afflingono la nostra nazione, non possiamo dimenticarci di tutto il resto e dobbiamo lavorare, dobbiamo portare avanti tutte le problematiche per cercare di migliorare la situazione. Io mi riferisco ovviamente alla nostra vicenda del Ponte Morandi. Noi come comitato abbiamo presentato un disegno di legge alcuni mesi or sono per l'istituzione della figura delle vittime dell'incuria in beni strumentali dello Stato, autostrade, edifici come tribunali, scuole, eccetera. Qualsiasi cittadino che fosse vittima delle incurie in queste situazioni, in questi edifici, sarebbe, diciamo, rientrerebbe in tutela in questo provvedimento. Al momento, nonostante l'approvazione è un po' bipartisan quando è stato presentato, però al momento nulla si sta muovendo. Per noi è importante questo disegno di legge per dare un senso alla morte dei nostri cari, per far sì che da questa tragica vicenda possa scaturire qualcosa di buono anche per il futuro. E quindi l'appello nostro è che questo disegno di legge venga approvato al più presto. Un altro appello riguarda la concessione. Dopo la nostra vicenda, dopo la morte di 43 persone, uccise dal crollo di un ponte, stiamo aspettando che emergano con grande serietà le responsabilità delle varie persone e di tutti i soggetti, diciamo, di questa vicenda. Ma soprattutto siamo preoccupati perché la società concessionaria che aveva in gestione il ponte Morandi, che appunto dopo questa vicenda è stata messa così un pochino sul piatto per l'esame, dovrebbe ricevere dalla trattativa con CDP, un esborso finanziario enorme. Questa società gestiva il ponte durante la vicenda del crollo. Ci sono evidenze già definite da una perizia che è stata fatta da periti super partes che definiscono che la mancanza di manutenzione è stata la causa del crollo. A fronte di questo, a fronte poi di tutto quello che ovviamente sarà esaminato nel processo, secondo noi dovrebbe esserci prudenza nella valutazione perché ci sono molti esposti che definiscono richieste, definiscono richieste all'autorità giudiziaria, vengono definite tramite interrogazioni, interpellanze dai parlamentari, da senatori, da deputati, delle richieste di chiarimento. Noi chiediamo che su questa vicenda ci siano approfondimenti molto seri perché i cittadini devono conoscere per bene cosa è avvenuto e noi non dobbiamo poi corrispondere in futuro enormi oneri per manutenzioni di queste infrastrutture perché non sono stati fatti prima questi lavori. Noi abbiamo bisogno che ci sia una scelta che sia per il bene della nazione e per il bene dei cittadini. Quindi chiediamo al Parlamento, al Governo, a tutti gli organismi che hanno voce in capitolo in questo, diciamo in questo esame, di prendersi tempo, di esaminare con attenzione e di scegliere magari una soluzione intermedia in attesa che venga fatta anche chiarezza giudiziaria perché non siamo noi che dobbiamo definire cosa deve essere fatto ma qualcuno che ha lo scettro per poter decidere dovrà decidere in modo che i cittadini possono essere tutelati perché non pensiamo che pagare in futuro miliardi di manutenzioni su delle infrastrutture che vengono rese in condizioni inaccettabili possa avere un senso. Quindi questo è il nostro altro appello. Noi diciamo anche un'altra cosa, siamo rimasti molto intristiti dal fatto che nel processo a Genova, nelle scorse giornate, il Ministero dei Trasporti abbia chiesto di essere stromesso come responsabile civile nel processo penale. Noi pensiamo che in questa vicenda lo Stato non dovrebbe, diciamo, estragnarsi e anche solo da un punto di vista morale e quindi questo devo dire che ci ha intrestito molto. Noi vi facciamo gli auguri di buone feste con tutto il cuore. Noi non passeremo delle feste serene come ormai purtroppo avviene da tanto tempo. Però speriamo che con quel poco che riusciremo a fare come cittadini non ci sia più nessuno che in futuro debba passare questi giorni, questi momenti che dovrebbero essere di grande serenità come li stiamo passando noi, col fango nel cuore. Ogni giorno cerchiamo di togliere un po' di quel fango, ma non sembra finire mai. Quindi vi ringrazio per l'attenzione, spero che queste parole possano essere sentite da qualcuno e vi saluto con un abbraccio.